Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 prestare attenzione al personale sulla strada per lavori tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato in entrambe le direzioni per una frana tra Popiglio e La Lima al chilometro 68 e 950. Senso unico alternato per lavori tra i chilometri 60 e 50 e 60 e 250 tra Stracaccio e Giardinetto. Sulla statale 67 Tosco Romagnola lavori di manutenzione tra il passo del Muraglione e Rocca San Casciano in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!